il ponte vomano per cancellare lo zero punti in graduatoria la renato curiangolana per fare filotto di tre alla fine ci riuscirà una sola con le immagini di maria carannante vediamo chi e come e si comincia a scrivere al settimo che dagli sviluppi di un angolo trova cichella che si fa apprezzare per una forbice potente sebbene fuori specchio ponte vomano che gioca di rimessa e lascia il gioco ai nerazzurri così all'undicesimo polisena dal cerchio di centrocampo va in verticare serve valentino cernaz che bacia pieno la base del palo dieci minuti e la renato curi sorprende i padroni di casa ventunesimo cichella che vede i miani lo serve lestamente ed altrettanto lesto e miani a toccare ad anticipare l'uscita di farnese 0 a 1 alla mezz'ora i nerazzurri cercano di legittimare il vantaggio il cross di ucci poco teso per l'incornata di miani tutto solo che costringe farnese al colpo di reni finale di tempo ad appannaggio dei gialloneri di casa 34esimo palla in possesso di ucci in barazzo per la sfera che si impenna porrini prende il tempo a ucci e pelusi ma manca però clamorosamente la porta forse il gol è nell'aria che arriva edoardo monaco fa davvero molto ma molto bene in area prima finta poi cross a basso per l'impatto di polisena che trova il gol dell'1 a 1 tutti a bere il te caldo e ripresa con l'occasione per gli uomini di paolo rachini calcio franco fuschi lunghissimo in aria spizzamiani intercetta fazio riprende ruggeri tiro di viato in angolo che non avrà sviluppi al quarto d'ora il direttore di gara rifila troppo severamente al nostro giudizio il secondo giallo alle onzi ammonito poco prima e di conseguenza viene espulso giallorossi in dieci ma per paradosso sparisce la renato curi angolana e così al 32esimo l'episodio che decide la contesa buffetti ancancia in area polisena ben lanciato da monaco l'arbitro non ha dubbi indica il dischetto e così sullo stesso si porta polisena che trasforma è il 2 a 1 il ponte romano in dieci così ribalta il risultato e continua sulle ali dell'entusiasmo applausi al 37esimo per monaco che fa rimbalzare prima la palla poi indirizza forte è preciso su pelusi che gli sbarra la porta in overtime di stefano prova il numero dribbling in area palla alta ma la gara finisce lì con il ponte romano che cancella lo zero in graduatoria e lo fa nel più appassionato dei modi quando vieni da così tanto tempo senza vittoria il pallone penso che pesa 100 kg comunque la squadra era un po' contratta però anche all'inizio era dura per loro prendiamo palo un minuto dopo ci fanno gol anche mentalmente è difficile però sono contento hanno avuto una grande reazione hanno avuto la voglia di vincere in dieci contro undici l'hanno cercata volute dopo tanto tempo penso che si meritano una soddisfazione perché comunque in questa prima parte di campionato secondo me abbiamo fatto tante ottime partite dove non abbiamo raccolto nulla ed oggi il premio per una vittoria che ci dà la soddisfazione parziale ma tra due giorni si rigioca siamo penultimi non cambia nulla il nostro cammino ci fa solo sorridere per 24 ore come giusto che sia dopo tanta amarezza incontrerete un giuliano va che ha vinto in rimonta come voi a casa al bordino dove essere stato sotto di due gol a zero ma giochiamo contro una squadra forte una squadra che c'è 19 punti che c'è il capocannoniere o il vice capocannoniere del del girone c'è entusiasmo ma noi a prescindere dell'avversario dobbiamo fare la nostra partita siamo inferiori a tutti e quindi dobbiamo mettere le nostre armi per cercare di mettere in difficoltà il giuliano va come tutte le altre squadre purtroppo i nostri limiti ci hanno condizionato fino adesso ma non cambia l'avversario perché secondo me abbiamo fatto una buona partita da vezzano e abbiamo sbagliato in casa con l'albadriati e casomai sulla carta inferiore quindi le partite vanno sempre giocate giochiamo con una squadra forte massimo rispetto però andremo a fare la nostra partita mister che cosa è successo blackout nella ripresa forse vi ha condizionato la superiorità numerica ma nel primo tempo la mia squadra ha fatto quello che doveva fare cioè ha fatto gol ha rischiato in un paio di circostanze di raddoppiare quindi come l'avamo preparata diciamo è così è stata la partita quasi mai in difficoltà tranne in qualche situazione che loro cercavano questa profondità siamo andati qualche volta in difficoltà poi nel secondo tempo come dici tu con la superiorità invece di avere benefici abbiamo sofferto perché abbiamo iniziato a buttare palloni invece di sfruttare comunque la superiorità quindi di palleggiare e di trovare i barchi giusti non l'abbiamo fatto e ci sta poi che una squadra che che in difficoltà che sotto ci mette il cuore ci mette l'anima e ti vince la partita perché la verità è stata questa nel secondo tempo il ponte umano ha messo il cuore e noi un po' di meno di loro perché abbiamo perso anche in superiorità numerica quello che mi dispiace ecco che forse non riesco a tirare fuori da questi calciatori quel quel po di cattiveria che ci vuole per per vincere poi le partite in questa categoria ho detto in telecronaca che era strano come un allenatore come rachini non riesce a trasmettere a questa squadra il suo carattere no che è quello sempre di un agonismo alto di stare sempre sul pezzo di fare sempre la gara come del resto avete fatto nel primo tempo ma non è che non lo che non hanno carattere i miei giocatori lo mostrano ma non riescono a mostrarlo per interi 90 minuti